La capogruppo del PD in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, con un intervento in prima pagina sul quotidiano del Sud, ha contestato con decisione gli articoli comparsi recentemente sulle principali testate nazionali e che ha detto puntano a mettere in discussione i dati tecnici e le valutazioni di contesto che precedono le decisioni politiche sulle risorse del Recovery Fund. Fanelli ha parlato di disinformazione per far saltare il riparto delle risorse Nord-Sud, finalmente messo su un piano corretto dal Governo nazionale. Il Governo nazionale a guida Partito Democratico affronta il tema del riparto delle risorse del Recovery Fund più di 200 miliardi di euro fra il Nord e il Sud, ponendo come minimo per il Sud il 34%, il PD dice di arrivare al 40%. Non è una questione teorica, quindi molto pratica per capire da noi quante risorse potrebbero venire per le strade, per l'innovazione, per la scuola, per l'università, per la sanità e per gli altri obiettivi fondamentali che con il Recovery Fund il Governo nazionale vuole raggiungere. 34% quindi come un elemento fondamentale del negoziato che le regioni stanno facendo con il Governo nazionale. Occhio perché alcune regioni e alcuni giornali di queste regioni a guida di imprese importanti del Nord stanno puntando a delegittimare la scientificità dei dati di partenza per evitare di costruire questo riparto vantaggioso per il Sud. Conte, Boccia, Provenzano, gli altri ministri sostanzialmente del Mezzogiorno invece lo stanno difendendo. E' una questione molto importante, il Molise deve aiutare a sostenere questa posizione, ci conviene. Fanelli, la sua presa di posizione per difendere le risorse per il Molise e il Sud sul Recovery Fund? E' certo, è chiaramente una questione di obiettivi, non voglio parlare solo di tasca, perché noi pensiamo che il Recovery Fund possa sviluppare un'economia verde, possa connettere con più forza le reti materiali e immateriali. Per me il MES deve servire in più rispetto al Recovery Fund per raggiungere risorse sulla sanità, di cui abbiamo fortemente bisogno, e ancora molta più scuola, aperta anche di pomeriggio, innovazione, imprese, sviluppo, occupazione. Se questi sono gli obiettivi servono molte risorse. Il Sud per una volta guida un governo e può ottenere quello che in passato, qualcuno lo definisce lo scippo delle regioni del Nord, io non voglio essere così oltransista, ma sicuramente quello che è equo per avvicinare i territori, chiudere la forbice del divario fra Nord-Sud. Fanelli, lei pensa a un Consiglio regionale monotematico sul tema? Noi, insieme ad altre forze politiche presenti in Consiglio, pensiamo che il Presidente Toma debba discutere gli indirizzi in Consiglio, perché è troppo importante la pianificazione del futuro. Entro ottobre le linee guida nazionali, entro gennaio i progetti dobbiamo farci trovare pronti.